Vero a Daniele? Volevo dire, ogni momento meno opportuno si scassa sempre qualche cosa. Ah, che te fosse un'altra risa che cosa non mi sembra che tu. E tutto il rai, quando le cose sono un po' raro, sì, non mi sembra, è tutto il rai. E tutto il rai, baby, quando hai avuto, si non ho fatto quello che non hai. It's only one of your personal possessions, one that you can't set free. Oh, just one of your personal possessions, so don't forget me when you leave.